Popolo di internet, benvenuti o ben ritrovati a un nuovo video Se è la prima volta che giungete su questo canale mi presento Sono Uomo che sapeva troppo per gli amici Uomo Venite a trovarmi anche su Twitch Qua sotto in descrizione ci sono tutti i link per trovarmi Sia su Twitch che su altri vari social Quindi insomma spulciatevi un po' la descrizione del video Per venire a cercarmi un po' dappertutto Video molto improvvisato, molto quick Perché poco fa ero live per seguire la opening night del Summer Game Fest Quindi tema videogiochi Dove tra l'altro hanno annunciato che Spider-Man 2 arriverà il 20 ottobre Non vedo l'ora di giocarlo Però ecco, mentre ero live è venuto fuori che Disney, così a caso Ha tirato fuori, neanche un trailer in realtà Ha tirato fuori una scena di 5 minuti di Secret Invasion La serie TV che partirà dal 21 giugno su Disney Plus Con protagonista Nick Fury Contro gli Skrull, contro quest'invasione silenziosa degli Skrull Che si sono sostituiti ad alcuni di noi E stanno cercando di conquistare il pianeta, così pare Così pare perché in realtà i trailer non è che abbiano raccontato moltissimo A chi non sapeva niente di Secret Invasion E secondo me non hanno funzionato così bene a livello di marketing Non perlomeno quanto questi 5 minuti Che non si è capito che 5 minuti sono Forse sono il prologo, i primi 5 minuti del primo episodio Chi lo sa Comunque adesso io vi lascio il momento in cui in live Ho reagito a questi 5 minuti Quindi era la prima volta che li vedevo Tra l'altro già doppiati in italiano C'è un sito specifico Con una password anche da mettere Una password che si poteva trovare come nome Per le varie foto che sono state mandate in giro da Disney Su Secret Invasion c'era una serie di foto che hanno rilasciato pubblicamente E il nome, il codice Non ho ben capito perché è successo tutto mentre ero live Comunque prendendo queste immagini si formava una password Una password che se messa sul sito giusto Anche quello reperibile dalle foto Faceva ottenere questi 5 minuti Un marketing carino, virale Spero che poi questo video esca pubblicamente Perché servirebbe parecchio Per convincere la gente a vedere il telefilm Insomma a capire di cosa parla effettivamente questo Secret Invasion E ovviamente non vi mostrerò nella reaction tutto il video In live l'ho potuto fare qua per evitare problemi di copyright Insomma evitiamolo Quindi lo tagliuzzerò un po' E poi finita la reaction live Tornerò a salutarvi con magari qualche considerazione extra Che in live non mi è venuta in mente O non ho fatto perché poi eravamo presi a seguire l'evento a tema videogiochi Quindi godetevi la reaction E vi aspetto dopo E poi nei commenti al video Magari possiamo discuterne O potete farmi sapere la vostra Ovviamente vi lascerò sempre in descrizione O anche nel primo commento Tra i commenti Il link al sito Con tanto di password da mettere Per vedere anche voi i primi 5 minuti di Secret Invasion A dopo Eccesso garantito Mosca Attenzione Mosca Oggi Present day Sì Arrivo subito Non muoverti Possiamo solo appellarci alle persone più care Ma se quelle persone Non fossero chi noi credevamo Potevi dirmelo nei trailer Dico Se quelle a noi più vicine In cui abbiamo confidato da sempre Fossero qualcun altro E' stata architettata quella tensione Agente Ross Classico pazzo che pazzo non è Se solo colpissero una superpotenza Cioè dietro tutto questo c'è un piano Scritto da poche persone Non persone Scroll L'unico contatto Scroll è avvenuto attraverso Nick Fury Pertanto Sono nostri alleati Allora dov'è Fury? E' sulla Saber E se devo farlo tornare per Per quello che vedo Qui dentro Gli devo dare più di qualche teoria Mi servono le prove Forse sei uno Scroll tu eh Dai non ci credo che non ci crede Capite cosa intendo Ora prendo questo E giro tutte le informazioni A Fury Ok? Ammazzo prima Dal 21 giugno Marvel Studios Secret Invasion Solo su Disney Plus Disney Plus Un saluto a Christian Jansante Mio maestro E' figo Molto figo Un incipit Molto molto interessante Ehm Veramente tipico Avrei voluto Avessero spinto prima A fare questa roba Cioè io avrei puntato Veramente a mostrare Ehm Questa roba qua Ehm In maniera più Ehm Esatto Avrebbe funzionato parecchio Secondo me Cioè il trailer Dove essere questa roba qua Invece ci hanno dato Due trailer Identici Dove non si capisce Perché Fury Combatte da solo Dove non si parla di Scroll E la gente ha bisogno Di sentirne Cioè potevano Prendere questa scena qua Farla un po' più breve La ritagliavano un attimo Poi se volevi la versione intera Io spero che questo video Lo mettano su Youtube Nei loro canali Lo spingano tantissimo Così la gente Si decide Perché tanta gente Ancora oggi Mi chiede ma Di cosa parlerà Di cosa farà Di cosa Cioè boh Bello Dice Nerd Like Me Parla chiaramente di me Ma Disney Non mi frega più Aspetterò recensioni Delle prime tre puntate E poi forse lo guarderò Solo Dalla terza puntata in poi Dalla terza puntata in poi Si dice La trasmutazione È abbastanza terribile Ma sicuramente Tutto è meglio Beh allora si La computer grafica Ragazzi sarà Non dico quella di Shulk Ma da quelle parti lì Perché L'hanno fatta Nello stesso periodo Nello stesso tempo Delle altre serie E per quanto La possano sistemare Ahimè Siamo ancora In quella fase Dove la computer grafica Non ha Non ha diciamo Non ha avuto La cura Di questo mondo Eh ma infatti Cosa ci voleva Cosa ci voleva Capirlo prima Eh lo so Gli ultimi spot e trailer Stanno presentando La cosa più evidente No non lo so Avrà più puntate Dovrebbero essere sei Sei puntate Nerd Like Me Mi pare dal 21 giugno Al 6 luglio Una roba del genere Vediamo il calendario Sì perché sei puntate 21 giugno 28 giugno 5 luglio 12 luglio 26 Sì ho detto sei Ma intendiamo 26 Ovviamente 26 luglio Quindi praticamente Più o meno Un mese Sì un mese intero Tutto luglio Lo passiamo con gli alieni Scroll È un po' La fine di giugno Le prime due Durano 55 minuti È vero che sono Molto lunghe Dicevano che erano È una serie di puntate Dicevano da un'ora Magari non tutte Tutte saranno Un'ora precisa Però belle lunghe Belle lunghe Questa era la mia Reaction Live Poi siamo finiti A parlare di altro Anche perché appunto Nel frattempo Era stata annunciata La data d'uscita Di Spider-Man Era stata annunciata La Collection Edition Con la statuetta Di Venom E di Miles E Peter Insomma che lo Cartellano di botte Non so se devo Aggiungere moltissimo A quello che ho Già detto Nella reaction Non ricordo tutto Perché ovviamente È successo live Ma chi se lo ricorda Ormai Quindi posso Diciamo forse Vabbè ripetere Che sicuramente Nel marketing Avrebbero dovuto Fare un po' di più Avrebbero dovuto Forse Far capire il concetto Del Ci sono gli scroll Gli scroll Si sono infiltrati Nella nostra società Possono prendere L'aspetto Di chiunque Quindi non sappiamo Guardandoci intorno Se la gente che vediamo Sono amici Oppure sono degli scroll Quindi nemici Ecco questo concetto Il concetto Del kitifidi È stato veramente Utilizzato malissimo In campagna marketing C'è qualche poster C'è qualche hashtag Ma nei trailer Nelle cose importanti Quelle che passano Anche in tv Per dire agli americani Questa roba Non è stata Non è stata tirata fuori Speriamo Speriamo che la gente Se ne accorga Magari anche con un po' Di passaparola Ecco che Varà la pena Vedere questa serie O almeno Marvel dovrebbe dirci Vale la pena di vederla Poi starà a noi Capire se effettivamente È così Devo dire che Questi cinque minuti Lo ribadisco Mi sono piaciuti Mi hanno intrigato Mi hanno messo Un po' nel mood Spionistico È una serie che Non credo Vanterà grandi effetti speciali Già si vede Non ci sono neanche Location immense Non avrà il budget Di un super film Però se sa raccontare Una storia interessante Sarò pronto Ad accoglierla Bisogna capire Cosa abbiamo visto Effettivamente Vediamo Ross arrivare Da questo informatore Completamente pazzo Che parla molto Sopra le righe Parla in maniera Anche un po' Quasi forzata Però vabbè Ci sta È un po' come Il vecchio dottore Eric Selvig Quello di Thor Che andava in giro nudo Con le antenne In Thor 2 Completamente pazzo Perché nessuno Credeva in cose Poi effettivamente vere Quindi qui è la stessa cosa Ci sta Vogliono mantenere Un po' quell'ironia Del pazzo A cui nessuno crede C'è quella parte finale Dove Ross Prende le informazioni Guarda qualcosa E poi dice Ok porterò queste Info a Nick Fury Ma Il pazzo Complottaro Lo attacca Ora Bisogna capire Se il pazzo Complottaro Non crede Non vuole che Ha capito Che non può fidarsi Di lui Ha capito Che è uno Skrull Magari boh Dagli occhi Da un modo di muoversi Da qualche cazzata Che forse lui Ha capito Ha capito Che Identifica Uno Skrull Perché magari Si è abituato A guardarsi attorno Ha capito Come identificarli Senza usare Particolari macchinari Oppure La risposta La risposta è dentro Colloccarlo Perché non si fidava Di lui Non lo so Ce lo spiegheranno Vedremo anche Di capire Se questi sono Effettivamente I primi 5 minuti Oppure no Comunque L'invasione Sta cominciando Il 21 giugno La terra Scoprirà Di essere invasa Dagli Skrull Di essere sempre Stata invasa Dagli Skrull Perché si parla di Una cosa che ormai Va avanti da 30 anni Già dopo la fine Di Capitan Marvel A me non l'avevano mai Raccontato giusto Agli Skrull Un po' perché Nei fumetti Sono cattivi Un po' perché Anche lo stesso Talos Che era buono Diceva questa frase Tipo Eh questo è solo L'inizio Ci riprenderemo Il nostro grande impero Insomma Gli Skrull Se nei fumetti Sono tutti cattivi Nella Marvel Ce ne sono di buoni Ma Gli Skrull cattivi Credo non mancheranno Non lo so Vediamo Vediamo il 21 giugno Cosa succederà Seguiremo qua Sul canale La serie Anche passo passo Ditemi se vi fa piacere Magari farò Delle recensioni veloci Di ogni episodio Poi tireremo le somme Una volta finita la serie Come facciamo sempre In Marvel Cinematic Chatting Quindi preparatevi Iniziate a ripassare I vecchi episodi Che trovate già sul canale E niente Come ho già detto Vi lascio qua sotto Il link Del sito con la password Fatemi sapere Cosa ne pensate Fatemi sapere Se aspettate Secret Invasion Se non l'aspettate Se questi minuti Vi hanno convinto Magari perché Prima eravate poco convinti Insomma Parliamone Discutiamone Aspetto I vostri Commenti Ci vediamo su Twitch E su tutti gli altri Vari social Qua sotto Trovate i link Quindi per favore Cliccateli Venite a trovarmi Anche su Twitch Perché parlare in live È bellissimo Voi mi fate le domande Io vi rispondo C'è un'interazione In diretta Molto piacevole Quindi mi raccomando E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao